Questo mese parliamo del passaggio più importante che può fare un essere umano come crearsi delle AI che non sono intelligenze artificiali ma abitudini istantanee nel senso il più rapide possibile usando il trucco che usa la natura Zio Hack del 1998 il numero 1 del miglioramento personale underground Oh cari nipotini c'è una vecchia barzelletta che vi vorrei raccontare sulla teoria e la pratica però è poco politicamente corretta quindi ve la racconto alla fine allora in teoria è facile, facilissimo essere colto, intelligente basta leggere i libri giusti, i libri giusti ogni giorno basta leggere i libri giusti ogni giorno in pratica date un occhio ai commenti dei social di qualsiasi gruppo è un disastro, non parliamo poi delle votazioni democratiche altrimenti di qualsiasi tipo anche al grande fratello in teoria è semplice essere in armonia interiore l'armonia interiore che cercano tutti, la cercano i vip, guardate quanto c'è disagio tra vip e influencer burnout, tutte queste depressioni, tutte queste cose e che per carità sono malattie serie, ci sono i miei amici che aiutano ma andiamo oltre è abbastanza facile, basta avere il giusto punto di vista su di sé, sugli altri, sulla vita e una pratica meditativa di mindfulness scientificamente basata, continuativa quindi è molto facile, il prossimo mese poi parliamo di quello, dell'heaking della mindfulness non perdetevi nulla, mettete la campanellina e il coso se vi interessano questi argomenti però in pratica guardate quanto disagio c'è in G, non sto facendo le colpe a nessuno di questo disagio però in pratica c'è in teoria sappiamo tutti come essere magri, basta mangiare di meno in pratica ecco, quindi questo mese parliamo del passaggio più importante che può fare un essere umano come crearsi delle AI che non sono intelligenze artificiali ma abitudini istantanee, vabbè nel senso il più rapide possibile usando il trucco che usa la natura ve lo dico in questo video il trucco perché non è quella la chiave, ve l'ho detto prima, teoria pratica però lasciatemi come dicono i giovani, lasciate questo vecchio boomer 60 secondi di flexing quindi grazie, grazie, grazie per i 174.000 che hanno visto il video sull'apprendimento evidentemente è un tema molto molto importante ma è l'inizio, l'apprendimento è solo la parte come dicono quelli intelligenti cognitiva poi ci deve essere la parte comportamentale dobbiamo andare nel reame del creare comportamenti e abitudini e io anni fa, prima di James Clear, prima di tutto quel filone ho parlato delle micro abitudini, mini abitudini che è tutta una strategia molto semplice sistema il tuo ambiente in modo che sia facile fare l'abitudine che non vuoi difficile fare quella che non vuoi fai una serie di cose e inizia in modo piccolo perché si chiamano mini e micro per creare l'abitudine e poi la fare salire nel tempo dopo che l'è creata, tempo varia, può essere ripeto molto rapida per qualcuno e ci vogliono in media 66 giorni, non 21 come dicono tutti come dicevano anche i tempi perché la letteratura diceva quello adesso le ricerche parlano di 66 giorni in media quindi vanno presi per quello che sono però c'è un qualcosa nella letteratura scientifica e vi metto sotto il link sul blog dell'articolo che uscirà lo stesso giorno del video sul rinforzo positivo che è il metodo della natura vi metto tre fonti, tre citazioni sul blog giusto per metterle quindi l'informazione signori non è potere o meglio cari nipotini c'è qualcun altro che è meglio evitare cosa possiamo controllare davvero di noi stessi? l'informazione non è potere la corretta informazione è importantissimo oggi perché c'è gente che con le informazioni sbagliate si è letteralmente uccisa e scusate non voglio fare esempi l'informazione corretta e applicata è potere lo ripeto l'informazione corretta e applicata è potere l'informazione da sola o l'illusione dell'informazione può essere un disastro l'informazione sbagliata e applicata è disastro può portare alla perdita della propria vita e di quella dei propri cari cosa possiamo controllare davvero di noi stessi? non possiamo controllare le nostre emozioni anzi quando cerchiamo di farlo facciamo dei disastri è il famoso controllo che fa perdere il controllo quindi in sostanza che cosa ci rimane che possiamo controllare? ci rimangono i nostri comportamenti e le nostre abitudini in questo momento posso scegliere di far così posso scegliere di far così posso scegliere di fare quello che voglio mettermi qui a fare delle flessioni possiamo controllare le nostre abitudini come ho già detto in passato ce ne sono tre fondamentali che tutti dovremmo adottare che ho già spiegato qui una pratica di meditazione mindfulness possibilmente scientificamente basata ci torniamo al mese prossimo allenarsi nel modo giusto per la persona e variato in un certo modo tutti i giorni anche lì ne ho già parlato tanto e l'altra cosa legge e studiare libri di qualità anche quello l'ho detto e in questa puntata per i miei clienti aggiungeremo anche una nuova pratica ovvero una pratica di mangiare consapevolmente quindi sposteremo quella pratica di meditazione dallo stare seduti così piano piano nell'attività quotidiana poi nel corso commerciale eh sì signori c'è una community privata è un corso commerciale se questo vi turba mi dispiace ma tranquilli c'è anche il materiale gratuito nel materiale gratuito dico il perché bisogna fare le cose poi nel materiale commerciale dico un po' di motivazione ancora nel corso ecco la motivazione la motivazione è quello che piace di più ai vari esperti ai motivatori motivatori ma trovarli motivatori ma basta cagare sulla motivazione ma averceli io mi sto ascoltando mi sono letto il primo libro di Goggins David Goggins sapete quello che cuore sempre resta tosto ci ho fatto anche c'era anche il mio tiktok che andava forte poi me l'hanno bloccato vabbè fa niente la motivazione è importante è quel razzo che ti fa partire e poi però il più importante la grinta che cos'è la grinta come la definisce la psicologa Angela Duckworth che ho citato nelle interviste è passione e perseveranza perseveranza è la chiave passione è la chiave quelle due cose che ti fanno andare avanti e fare le cose se no diventi come certe persone che lanciano mille progetti stop 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 e poi tutti i fallimenti e dopo la gente non si fida più di te giustamente ma non è vero perché la legge del potere che la ripeterò sempre che ci dice che la gente è stupida a livelli inimmaginabili continuerà poi ho sbagliato e si riprende tra la nostra conoscenza e la nostra pratica di creare abitudini c'è la nostra psiche tutto quello che nei nostri ingranaggi in questa black box di neurologia di tutto il corpo ci fa passare da cognizione a comportamento e per svelarti il trucco della natura che ho promesso nel titolo il trucco della natura è il piacere se riesci a rendere subito molto piacevole intrinsecamente questa è una parola che piace tanto agli amici psicologi che vuol dire dentro alla stessa pratica se la riesci a rendere piacevole ecco che automaticamente diventa rapidamente un'abitudine questo trucco ce l'ha messo la natura nel sesso perché ci sia la riproduzione non a caso fare sesso abbassa la soglia del disgusto che è l'opposto c'è anche una leva più potente va detta che viene usata nel marketing che è il dolore ma non è il tema di questo discorso quindi se riusciamo a mettere piacere in una pratica lo facciamo e questo mese lo facciamo con il mangiare ci alleniamo per mangiare in modo che non sia quell'esperienza uno va in un ristorante stellato invitatemi a proposito cari ristoratori stellati ci vengo se offrite voi ecco uno va in un ristorante di una certa qualità e se è distratto non si accorge neanche di quello che mangia oppure uno si mette lì mangia il cibo migliore possibile che è quello preparato non so dalla nonna cosa lentamente e ha un'esperienza trascendente il trucco è attenzione lentezza eccetera ci sarà una pratica guidata non qui sui canali ma per chi per chi si iscrive il prezzo ecco il prezzo l'investimento su te stesso è quello di un caffè al giorno il caffè non ti fa bene interferisce con i recettori della nenosina del cervello che ti fanno dormire prendilo se vuoi decaffeinato prendilo quando ti serve però uno degli esperimenti del mio gruppo telegram è stato proprio quello di molta gente che ha smesso di bere il caffè ha riportato risultati straordinari siamo in chiaro il caffè fa bene contiene polifenoli eccetera quindi ci sono ragioni anche la caffeina fa bene se uno può investire non una berlina ma un caffè al giorno ecco che ci sono questo mese sei corsi omaggio guardate sotto c'è anche dei rilassamenti base omaggio che ho creato e una pratica guidata c'è un altro audio di un'ora in cui faccio un po' anche il motivatore cerco di cambiare la prospettiva mentale su certe cose e di darvi una certa grinta per poi adottare una pratica molto lenta in cui si mangia deliberatamente a pranzo a cena o a colazione con lo zilac con me basta non me la canto non me la suono più però ti invito a guardare sotto nei video magari precedenti che ci vuole del tempo i commenti degli iscritti nell'articolo del blog ripeto dei mesi precedenti metteremo a disposizione il mese scorso anche il biohacking degli integratori ma solo fino a fine di questo mese poi chiusa non c'è più guardate i commenti leggete e lasciate che siano loro e gente come voi che passava di qui tenete conto di una cosa che io ho clienti da quando ho iniziato cioè dal 98 queste persone mi seguono in tutto quello che faccio qualcuno se l'ha andato poi è tornato ed allora mi ha sempre seguito vi avevo promesso una barzetta la teoria la pratica allora c'è Pierino che va dal papà e gli dice papà cosa vuol dire teorie pratica guardi Pierino te lo spiego in modo con un'esperienza di vita vedrai che così lo capisci bene vai vai dalla mamma e chiedi se la darebbe al vicino per 500 euro torna Pierino la mamma ha detto di sì ha detto di sì 500 euro ecco adesso vai da tua sorella e chiedi se la darebbe al figlio del vicino per 500 euro ha detto sì 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 va bene è anche un bel ragazzo ecco Pierino in teoria abbiamo 1000 euro in pratica abbiamo in casa due un abbraccio di luce a tutti non di luce un abbraccio non di luce a tutti e auguri per la formazione che ti meriti